La Cassa di Risparmio di Cesena amplia la propria rete commerciale con l'apertura di una nuova filiale in via Balsella a Forlì. Oggi l'inaugurazione ufficiale con il vicepresidente Bruno Piraccini, una inaugurazione che avviene in un momento piuttosto particolare. Che cosa rappresenta per voi? Per noi rappresenta un momento di fiducia nella ripresa. Veramente stiamo attraversando un momento di crisi complessiva dell'economia, situazioni di disagio anche per le famiglie e per le imprese. L'apertura di un nuovo sportello che è il 129esimo del gruppo della Cassa di Risparmio di Cesena rappresenta per noi la fiducia sulla ripresa, la fiducia anche di doverci mettere le nostre attività, il nostro impegno per far sì che il nostro sistema economico possa ritrovare quella strada che la crisi ha interrotto. Qual è il vostro rapporto con le istituzioni, con le imprese? Il nostro rapporto è molto positivo perché il nostro è una banca locale che lavora nel territorio romagnolo principalmente e soprattutto siamo legati a un sistema di fondazioni, quella di Cesena, di Faenza e Lugo, che sono molto legate ovviamente al territorio, che devono svolgere le loro missioni all'interno del territorio, quindi forzatamente noi siamo legati al territorio. Ovviamente abbiamo un impegno che è quello come banca, proprio per le nostre origini, per le nostre tradizioni, di avere un rapporto particolare con la clientela che deve essere quello di capire le esigenze, di essere vicini alle persone e di cambiare anche se vogliamo, migliorandola, il nostro modo di operare perché da questa crisi si può uscire solamente con l'impegno da parte di tutti.